Buongiorno a tutti, oggi siamo a Calizzano alla partenza della vecchia Manovia che ho ritrovato grazie a testimonianze di alcuni signori del paese e si trovava di fronte alla vecchia colonia costruita in epoca fascista colonia della federale Littoria, dell'associazione per i giovani ed ecco qui il plinto incredibilmente ancora intatto ecco questo è sicuramente una cosa che non mi sarei mai aspettato di trovare e me l'hanno proprio detto che c'era il plinto quindi si vede ancora il basamento in cemento soltanto questo, ora vado a vedere a monte se c'è ancora qualcosa e la pista rimaneva tra qua che c'è un torrente e qui un altro fiume mi hanno detto quindi rimaneva in questo triangolo saliva è qui, era una manovia abbastanza ripida quindi e attiva negli anni 80 diciamo mi ha detto il signore fino a inizio anni 90, fino anni 80 funzionò e in verità non si trovava qui ma con vi ho posizioni due volte in origine verso la chiesa di San Rocco in una frazione di Caizzano e poi verso Bardinetto la seconda volta e infine trovo la sua collocazione qua quindi è sicuramente degli anni 70 ed ecco qua una testimonianza incredibile dal passato infatti inaspettata perché oggi passavo a Caizzano non ho approfittato ma insomma sono con il telefono però eccola qua, la manovia di Caizzano e niente, alla prossima la manovia di Caizzano la manovia di Caizzano e poi la manovia di Caizzano Grazie per la visione!